Un episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di domenica 10 novembre nell'Amitino quando un giovane di 23 anni di nazionalità rumena ha creato il caos in un ristorante della fascia tirrenica gestito da cittadini cinesi. Dopo aver cenato, il ragazzo si è rifiutato di pagare il conto minacciando il titolare del locale. Allontanatosi dal ristorante è tornato poco dopo armato di una spranga di ferro lunga due metri. Con l'arma prima ha infranto la vetrata d'ingresso, poi è entrato nel locale seminando il panico tra i presenti. I clienti e il personale sono stati costretti a fuggire mentre l'uomo devastava gli interni. Durante il raid ha sottratto 200 euro dalla cassa e danneggiato le auto di due avventori parcheggiate nelle vicinanze. Le accuse nei suoi confronti comprendono estorsione, danneggiamento aggravato, rapina aggravata e resistenza pubblico ufficiale. A seguito dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria è disposto per l'uomo la custodia cautelare presso la casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro.